Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vi parlerò di quello che dicono le teorie del complotto su Big Pharma. Premetto che io non sono un complottista ma vi parlo di queste teorie giusto per spiegarvi cosa ritengono giusto i complottisti a riguardo di questo tema, cioè di Big Pharma. Secondo i complottisti oramai le aziende più potenti in ambito farmaceutico investono di più in marketing e sempre meno in ricerca proprio perché i farmaci sono diventati secondo loro dei prodotti commerciali per avere un tornaconto economico quindi ritengono che la medicina non sia altro che un terzo business e che i camici bianchi sono soltanto una mano d'opera qualificata di grandi corporation. Magari alcuni aspetti sono veri come è vero che nel 2017 grosse aziende farmaceutiche sono arrivate a fatturare 437 miliardi di dollari quindi è vero che in piccola parte c'è un interesse al business, un minimo business c'è ma allo stesso tempo non è vero che sia soltanto un discorso di marketing o di voler propinare farmaci soltanto per guadagnare ovviamente. Secondo i complottisti delle malattie croniche garantiscono un'assunzione costante dei farmaci e con le varie pubblicità inviterebbero ad assumere farmaci al primo sintomo.